esibizione di halo ragazzi qua in forza horizon abbiamo una collaborazione con elo beh ovviamente questo gioco lo fa microsoft quindi abbiamo il warthog attenzione abbiamo anche un mitico master chief attenzione che si avvicina con fara e losco e gg tanto è anche bene meglio del meglio del trailer di halo infinite che è stato infimo grafica meglio questo e vediamo di andare a vincere questo evento via da gara yup tra l'altro non hai controlli di tracione attiva che con il warthog potrebbero essere utili però figlio ci sono tutti e attenzione oggi abbiamo il pelican e tutti anche i baci ci sono cazzo la figa adoro alo che mi fanno un bell'alo maledizione wow nel castello di edinboro cortene io devo battere dobbiamo battere il pelicano l'altro warthog il pelicano l'altro warthog dobbiamo battere sicuramente i banche spero che non sparino anche i missili io io andiamo avanti lezio in halo forse si guida si guida da dio qua no qua si guida meglio qui in halo a dire la verità un altro banshee un altro warthog yeah comunque no cazzo l'hanno ricreato veramente bene questo gioco il warthog dai su fammi vincere cazzo cazzo dove si acqua anche il treno no il treno no eh prenderà mica un treno di fronte eh cavolazzi e cavolicchi me lo lasci il warthog poi se vinco dai lasciami il warthog 500.000 credit ma va bene così vediamo qua tagliamo il più possibile stai dentro stai dentro stai dentro da oh quei due lì non ci arriviamo mica eh cazzarola dai accelera su prendi la scia però non c'è le mitragliette guida master ci però non c'abbiamo le mitragliette maledizione un altro banshee oh 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 basta fammi passare io io pi dai almeno la un warthog fammelo spassare cazzarola gg vai 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 io si cazzi dai master ci credente perché non c'è il vestito di master ci in questo gioco qua ci sono i leggins ne ho guardati le ballerine rosa ma non c'è il costume di master ci fa una edizione 10 9 8 7 6 5 4 tagliamo 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 il pelican però non lo battiamo eh non lo battiamo il pelican wow wow yeah yuppie abbiamo vinto allora ho finito finiamo il prossimo video gg allora chi è oh okropo figa oh io volevo essere anche bravo ma lo insulti la gente figa ma ma la gente sta male scusa sharp ma certe persone che non vanno neanche nominate hanno dei seri problemi non so che problemi hanno secondo ban peccato il mio miglioratore gli ho detto di non sbannarli e poi non c'è mai quando arrivano cazzo eeeh tu arde eeeeh en bellissima quella gara, molto bella questa gara di Halo, ci sono 5-6 eventi qua per la mappa, c'è così tanta roba su questa mappa qua, l'esibizione, c'è questo, c'è la speed contro un treno, contro l'overcraft, tanta roba, bello, si lo puoi comprare, c'è anche un fottio di soldi, costa nel... sì sì beh ovviamente un gioco microsoft lo fanno comprare, ci dovremmo mettere il costume di masterchief perché... dov'è che è? qua, questo tipo 850 gappa che sono un sacco di soldi lì c'è anche dei colori interessanti no bello, gli mancano le mitragliatrici, ecco quello però sai da gara ci sta ci sta, ci sta, ci sta da dire, ci sta, no però noi ci abbiamo, che macchine ci abbiamo? però fighi che... cioè io c'ho... vabbè la 500, abbiamo la bmwz, queste qua le abbiamo fatte in italia, la macchina qua era costruita in italia, poi in italia non ha avuto successo ovviamente come tutte le cose italiane che non hanno successo, tutti a sparare di merda sopra, però qua obiettivamente tutti a sparare di merda questa potrebbe essere una nuova Vespa, tipo una nuova 500, poi la presa della bmw è successo eh, in germania è un successo di vendite è esagerato questa qua sì, Pikachu è aggressivo molto guarda che è una bomba sta qua, fighi che va come drifta impenna anche eh, cioè quando inizia ad andare troppo forte, fighi che... oh cazzo, stavo andando un po' sono andato un po' esagerato qua quando vai troppo forte impenna bello eh brezz, 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 tu devi traverto troppo po' tese ah sta in strada, cazzo spag.... Bisogna fare ancora di meglio però. Sbabbè, 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 sbabbè. Partiamo da qua, vabbè, vabbè. Oh, bra bra, biblà. Praticamente è un mezzo da psicopatico questo. Cosa da utilizzare con i controlli Se no è veramente Cioè Cioè la giri come vuoi Questa Guarda Ibra Yo Ya Oh Forza Horizon No È ambientato In Inghilterra Scozia Tra l'Inghilterra e la Scozia Non so se in Scozia o Scozia O comunque in Scozia Perché Dinburgrin è in Scozia È ambientato Tra l'Inghilterra e la Scozia Perché c'è Dov'è qua? In Dinburgrin è in Scozia Poi questa qui sarà tutto Scozia, Bara, Inghilterra Nord dell'Inghilterra Lì L'Inghilterra Cazzo ne so Andiamoci a fare Affrontate le sfide Recomuniti nel Super 7 di Horizon Va bene C'è una questa qui Sì, bello Sì, gli inglesi C'hanno Fì, che c'hanno Un culo Adesso c'hanno Horizon Vabbè che è già fuori da un po' C'hanno Horizon Fì, che c'hanno anche Valhalla Che è ambientato in terra Fì, che c'hanno Un botto di giochi Adesso E poi c'è mai C'è